La testimonianza cristiana è fondamentale, le discordie tra i credenti sono di ostacolo all'evangelizzazione e favoriscono quei gruppi che alimentano la ricerca di soluzioni facili ed illusorie. Lo ha detto il Papa nel discorso ai Vescovi della Guinea ricevuti al termine della visita ad Limina. Papa Francesco ha sottolineato l'importanza della coerenza tra fede professata e vita vissuta, l'importanza del dialogo interreligioso col mondo musulmano, la necessità di un impegno per migliorare la qualità della vita contrastando la povertà. Alle famiglie ha detto va ricordata la santità della proposta cristiana sul matrimonio rifiutando la poligamia. Quanto ai seminaristi ha ribadito che i futuri preti devono venire formati alla vita celibataria e al rifiuto del carrierismo e della mondanità.